Il Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto presenta Spirito Verdiano, mostra dei personaggi delle 27 opere di Verdi dell'artista parmense Vittorio Ragneri, in prima assoluta, dal 12 settembre al 31 dicembre 2012. Vi aspettiamo! Il Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto presenta Spirito Verdiano, mostra dei personaggi delle 27 opere di Verdi dell'artista parmense Vittorio Ragneri, in prima assoluta. Dal 12 settembre al 31 dicembre 2012. Vi aspettiamo! Il Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto presenta Spirito Verdiano, mostra dei personaggi delle 27 opere di Verdi dell'artista parmense Vittorio Ragneri, in prima assoluta, dal 12 settembre al 31 dicembre 2012. Vi aspettiamo!